Musica Buongiorno a tutti da questa tappa tutta marchigiana come Associazione Nazionale Carabinieri seguiamo il Giro d'Italia appunto per la sicurezza dei ciclisti e dello sport in generale in questo momento proprio del ciclismo professionista abbiamo come punto fermo, punto cardine dell'associazione la sicurezza e anche personale della sicurezza della strada sono un carissimo amico di Michele, del fratello Marco e di tutta la famiglia è una tappa come dicevo marchigiana che ci vede il Giro d'Italia correre su queste strade le strade di Michele Scarponi grazie a tutti per l'ascolto buongiorno grazie a tutti grazie a tutti